Come acquistare oggetti extra nei giochi è molto semplice Bisogna installare questa applicazione iAppFree oppure l'applicazione disponibile nelle impostazioni Local App Store Per installare uno di questi due tweak innanzitutto bisogna avere il jailbreak Attualmente io ho iOS 6.0.1 però è possibile effettuarlo anche su iOS 6.1 Bisogna andare in sidia, aggiungere la repo di AcureiPhone che è http.repo.acureiPhone.org Una volta aggiunta e caricati tutti i pacchetti bisogna cercare Local App Store Io l'ho già installato, voi lo installerete Successivamente bisogna andare nelle impostazioni E fare Enabled Successivamente possiamo testarlo con un qualsiasi gioco Ad esempio prendiamo Temple Run 2 Una volta arrivati sullo Store Bisogna seguire queste istruzioni Allora, quando bisogna acquistare qualcosa Riuscirà la semplice icona per acquistare e quindi confermare il vostro acquisto Oppure annullarlo Bisogna fare Annulla Successivamente vedremo che il nostro acquisto è stato effettuato con successo Grazie a tutti